Il mattino le cose hanno il rumore brusco dei sogni che si interrompono e la luce elettrica li abbaglia. Il brusio del mio leggero acufene è come il silenzio che il mio cuore non riesce a fare perché li manchi e me lo dice così. Prendo qualcosa di caldo e anche gli ultimi avanzi del nostro ricordo.